La musica di Giuseppe Verdi e i salumi di Piacenza, un abbinamento ardito ma per nulla casuale. La piazzetta dell'Emilia-Romagna è anche questo, in scena i tre salumi DOP piacentini. Coppa, salame e pancetta e ribadiamo subito che siamo l'unica provincia in tutta Europa ad essere detentori di tre DOP nel settore delle salumerie. Una missione chiara, soprattutto verso i più giovani, far capire come riconoscere un salume di qualità. È necessario fare delle degustazioni guidate per capire quando un salume è al top della sua valorizzazione di tutte le sue caratteristiche intrinseche. E poi Verdi, un orgoglio da raccontare. E' stato il più grande agricoltore piacentino, con mille ettari di terreno. Pertanto le sue musiche oggi le canteremo con il coro del Conservatorio della nostra città. E' un'esperienza dove noi cerchiamo di far fare bella figura, oltre che a Piacenza, a tutta la regione. Perfetto! Perfetto! Grazie a tutti.